Mi bacia il primo ragazzo che incontro Bello questo ascensore La Cavese ha lottato per ottenere i tre punti contro il Gladiator La vittoria di misura ci sta per quello che i bianco-blu hanno fatto vedere nell'arco del confronto Ma Raffaele Di Napoli, l'allenatore della squadra metelliana Sa che a questo punto del campionato ogni partita sarà importante Che nessuno regalerà niente ad altri E che ogni squadra dovrà comunque sudare per arrivare al successo pieno Una Cavese che aveva cominciato puntando ad assumere il controllo del gioco E che poi, dopo quella puntata in contropiede di Panic Ha tratto giovamento dai cambi decisi in corso d'opera Anche dal cambio di sistema Una cosa che non si era vista molto nell'ultimo periodo Dopo il 3-5-2 di partenza I metelliani si sono convertiti al centrocampo a rombo E con questa sistemazione hanno messo sotto pressione il Gladiator Per come esso era disposto in campo Una squadra molto fitta in zona centrale doveva essere contrastata alla stessa maniera Ma anche l'aspetto caratteriale ha fatto la differenza I bianco-blu si vedeva che volevano martellare nella fase finale della gara E di fatti, negli ultimi 25 minuti Sono state molte di più le parate di Marone Portiere del Gladiator Rispetto a quelle di Boffelli C'è di più Da cinque incontri gli Aquilotti non tenevano inviolata la propria porta Nelle gare contro Romana, Cassino, Latte Dolce, Ischia e Atletico Uri Avevano sempre concesso almeno un gol E comunque avevano riportato otto punti Frutto di due vittorie e due pareggi Contro il Gladiator hanno vinto 1-0 Il dato statistico sul fatto che la Cavese l'altro ieri non ha preso gol Può solo rafforzare la sua fiducia Anche se, bisogna ricordarlo, ogni avversaria è diversa dall'altra Per poter raggiungere la promozione in C I metelliani dovranno cercare di vincere almeno altre otto partite E possibilmente non perdere con le squadre di altissima classifica Contro inseguitori così prepotenti Bisogna solo tagliare per primi il traguardo Ora, quella grinta esibita domenica contro il Gladiator La Cavese dovrà cercare di confermarla anche a Roma Contro il Trastevere Calcio Che non è più la squadra smarrita e opaca del girone d'andata Ma dall'arrivo dell'allenatore Venturi Adesso è più ordinata e crea parecchie occasioni da gol Le individualità a cui gli aquilotti dovranno prestare attenzione Sono Alonzi, centravanti che fa reparto da solo Mastro Pietro, seconda punta Crescenzo, centrocampista goleador E Ricci, un regista dedito anche lui all'inserimento Una squadra così, molto mobile Probabilmente andrà affrontata con le sue stesse armi Intanto i tifosi di Cava dei Tirreni Aspettano di conoscere le indicazioni Che verranno dettate dalle autorità Per l'acquisto dei biglietti La gara Trastevere Cavese sarà giocata Domenica 25 febbraio Allo stadio Ex Vittorio Bachelet Ora intitolato Trastevere Stadium Perché è praticamente la casa della compagine capitolina Allo stadio Ex Vittorio